Mi è stata commissionata una candelina per una bambina di 5 anni, allora questo vasetto qui tiene 90-93 grammi di acqua, quindi per sapere quanta cera ci vuole dovete fare il doppio, quindi all'incirca 180 grammi di cera. Ho messo la cera a bagnomaria, adesso si sta sciogliendo e mi raccomando non si deve mai mescolare tanto, solo delicatamente così una volta ogni mai, si deve sciogliere senza toccarla perché sennò si creano delle bolle d'aria all'interno della candela. Ogni tanto controlliamo la temperatura con questo termometro qui, ecco qua, vedete? Adesso siamo a 54 gradi, 60-64 e una volta che la cera è tutta quanta sciolta, rimisurate col termometro perché deve raggiungere gli 82 gradi al massimo, ok? Quindi adesso in realtà non fa testo quello che ho misurato perché la cera deve essere completamente sciolta. State sempre attenti che la temperatura sia in gradi, deve esserci la c, non la f, se è così è sbagliato, sempre in gradi che è la nostra misura europea. Come decorazione metterò questi due bellissimi boccioli di rosa appena raccolti dal mio giardino. Io consiglio sempre di usare dei pentolini che possano avere un manico esterno perché se usate per esempio una pentola grande, gli mettete l'acqua e poi ci mettete un'altra pentolina dentro senza manico, poi per tirarla fuori rischiate di scottarvi. Adesso una volta che la cera è tutta sciolta, rimisuriamo la temperatura che deve scendere a 60 gradi. Allora ho spento il fuoco perché la cera si è sciolta tutta e adesso aspettiamo, vediamo se è raggiunto la temperatura desiderata. Vedete come sale velocemente. Ha raggiunto anche fin troppo la temperatura, è troppo alta, quindi adesso aspettiamo che scenda a 60. Nel frattempo ho preparato lo stoppino, vedete ho messo l'adesivo, quello bianco è un adesivo, e ci ho messo sopra lo stoppino. Una volta raggiunti i 60 gradi circa, versiamo tutto nel nostro stampo, ecco qua, e andiamo a fissare lo stoppino. Una volta fissato lo stoppino, non ci resta che aspettare che la cera si solidifichi. Una volta che si è solidificata, iniziamo a metterci le roselline. Così, guardate che bello! Ovviamente si deve solidificare ancora.